Ma benvenuti! Io sono Martina Pascutti, siete in QVC Italia, proprio nella sede qui a Brugherio alle porte di Milano. Questa struttura si estende su una superficie di 15.000 metri quadri, un vero e proprio microcosmo dove all'interno troveremo gli studi, l'outlet, gli uffici, tutta la parte del customer care. Pensate che la primissima diretta è iniziata il 1 di ottobre 2010, da lì siamo sempre in onda in diretta, 17 ore al giorno, 364 giorni l'anno, tranne a Natale che siamo registrati. Non tutti sanno che siamo l'emittente televisiva italiana con più ore di diretta al giorno, venite con me! Qui ci troviamo proprio in uno degli studi di QVC Italia, dove ogni cosa che vedete è proprio l'insegna dell'avanguardia, della tecnologia e anche dell'innovazione. Alle mie spalle vedete alcune di queste camere che non sono controllate dal vivo, in questo caso con degli operatori fisici, ma sono controllate proprio da remoto, quindi robotizzate. Questa è un'altra importante tecnologia che in QVC è presente. All'interno della diretta televisiva siamo circa 30 persone a lavorare e operare in quel preciso momento, in quel preciso istante. Noi siamo un team di 21 presentatori, io compresa ovviamente, e affiancati chiaramente da dei guest. I guest che sono gli esperti del prodotto, che ci raccontano proprio che cos'è in quel caso quel tipo di accessorio. o persone che sono addette proprio agli show invece di cucina, di tecnologia. Insomma, un team molto molto vasto che ci aiuta a far sì che lo show sia sempre bello. E oltre ai presenter e ai guest ci sono tante, ma tantissime altre figure. Ci sono gli assistenti di studio, ci sono i parrucchieri, ci sono le truccatrici che ci rendono sempre belle e luminose. Ma non solo, ci sono anche gli scenografi che fanno sì che lo studio sia sempre curato nei minimi dettagli. Andiamo a vedere come funziona la regia ad alta tecnologia di QVC. Qui ci troviamo nel backstage, nella regia, dove è tutto quanto all'insegna della tecnologia e dell'innovazione. Una delle figure proprio più importanti per il business di QVC è la figura appunto del line producer. Il ruolo del line producer è fondamentale. Perché? Perché grazie agli input che riceve direttamente, che monitora tramite l'andamento delle vendite, può comunicare a noi presentatori, che siamo in onda in quel momento davanti alle telecamere, ciò che piace maggiormente di più, ciò che piace meno. La giornata di QVC viene organizzata proprio minuto per minuto tramite un palinsesto televisivo. Chi si occupa proprio di questa organizzazione è un ruolo, un altro ruolo importante, quello del planner, il planner televisivo. Ogni giornata abbiamo un today special value, chiamato proprio TSV, che è l'offerta migliore della giornata, che dura proprio solo una giornata intera con un rapporto qualità-prezzo straordinario. Ogni show televisivo ha una durata di 58 minuti. I restanti due minuti sono dedicati proprio a messaggi autopromozionali o a una tematica sociale. Ci troviamo in un altro spazio importante, che è lo show control. Qui i prodotti vengono preparati, inseriti, proprio posizionati sugli appositi carrelli. Ogni carrello è dedicato proprio a quell'ora della diretta e poi portati direttamente negli studi televisivi. Ci sono poi anche altre stanze importanti, altri luoghi, dove vengono anche create le scenografie, ovvero la cosiddetta falignameria. Per gli show di moda realizziamo delle vere e proprie sfilate, con delle passerelle, con le nostre modelle, che sfilano alcuni di questi abiti che vedete già qui pronti in magazzino. E non solo, qui parliamo della parte della moda, quindi il fashion, ma realizziamo anche degli statici inerenti invece alla cucina, quindi degli show cooking. Qui infine ci troviamo nel contact center, il cuore pulsante di QVC, l'area dedicata proprio dove troviamo il nostro customer care. Qui abbiamo un servizio di operatori che lavorano proprio e assistono il cliente passo dopo passo. A questa sede di Brugherio si aggiunge un polo logistico importante, fondamentale, che si trova proprio a Castel San Giovanni, dove ogni giorno partono tantissimi ordini diretti ai nostri clienti. Pensate che la superficie di quella struttura è grande 20.000 metri quadrati. Spero di avervi mostrato, grazie a questa visita, come sono fatti gli studi di QVC. Un luogo dove la tecnologia, l'efficienza e la professionalità sono all'ordine del giorno, posizionandoci come una vera eccellenza nel settore del broadcasting.